Da Giampilieri a Palazzo Satellite nessun ufficio rilascia i tesserini venatori 2016 a segnalare la carenza del servizio ai consiglieri comunali Carlo Abbade e Francesco Pagano che parlano di discriminazione nei confronti dei cittadini della zona sud. Attualmente infatti gli unici due distretti attivi sono la sesta circoscrizione e l'ufficio di Palazzo Satellite. I segretari circoscrizionali responsabili dell'organizzazione del personale nelle sedi decentrate non possono erogare il servizio per carenza di personale. 1.800 tesserini in 5 giorni fanno 360 tesserini, 350 persone al giorno che si presenteranno in due zone. Quindi smaltire questa utenza, quindi non dare questo servizio al cittadino è una mancanza grave per un'amministrazione. Noi insieme con il consigliere Pagano che è il promotore di questa iniziativa insieme alla Presidente del Consiglio Comunale Emilia Barrile abbiamo sollecitato il segretario direttore generale del Comune, la dirigente del personale e del decentramento, l'assessore al decentramento ed il sindaco stesso a provvedere, a demanare quei provvedimenti in modo che possono essere aperti per questa distribuzione dei serini venatori anche ai quartieri della zona sud. Ma questo servizio è dovuto ad una mancanza di organizzazione da parte dell'amministrazione comunale, ma noi come in questo settore lo vediamo anche in altri settori. Quando un Comune si trova in ristrettezze economiche, perché se io ho i soldi posso gestire, posso fare tante cose, ma se mi trovo in una situazione di precarietà economica, come siamo in una fase di predissesto, il mio punto di forza non posso che essere le risorse umane. Grazie.